Qui vi presentiamo le 5 migliori ombrelli fotografici. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Godox 120 cm 47.2 Importatile Octagon Softbox Ombrello Broly Riflettore per Spade Ligate. Ha un diametro di 120 cm e all'interno è con argento riflettente. Ammorbidisce la circolazione della luce ed elimina anche l'oscurità per i migliori scatti. Il tessuto flash di eccellente qualità atta a migliorare la perdita di luce e ottimizza anche la diffusione della luce. Presenta una copertura frontale trasparente cuscita con velcro attorno al bordo. Il mondo consente di impostare facilmente il softbox sul cavallo. Passando al numero 4. Fotose Lume 336R Softbox con ombrello riflettente 91 cm. Il diametro completo di questo ombrello softbox riflettente è di 91 cm. Questo modello è perfetto per la fotografia di prodotto e anche per la fotografia di ritardi, insieme a per le riprese di piccoli squadri. È progettato con un rivestimento unico che elimina la dispersione in uguale ai calchi d'ombra. Il diffusore replica un softbox con la facilità di un ombrello. La chiusura del cordoncino e la cerniera rendono il rivestimento perfettamente attaccato all'articolo. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. DINASONUR 05 Ombrello a doppia superficie professionale da studio. Questo design da officina da 109 cm presenta una superficie interna argentata e anche una superficie esterna nera per dare un'elevata morbidezza della luce con una ridotta diffusione del riflesso. Lo stile ortagonale dei pannelli offre una rappresentazione ottimale e allo stesso tempo un motivo circolare di luce. Il set è costituito da un ombrello diffusore bianco a cui è possibile apporre il pannello argento, nero. Questa superficie diffonde la fonte di luce sull'elemento minando l'eccesso di messa a fuoco della luce. L'utilizzo solo dell'ombrello bianco consente di diffondere la luce e produrre una grande fonte di luce morbida intorno all'articolo. Con due casse di sport, al most at the top of our list at number 2, Vimex, set ombrello riflettente, virgola 180 cm. È un vero kit che consiste in un ombrello di risposta nero-argento e anche un ombrello softbox bianco. Si apre prontamente ed è anche immediatamente on-line, davvero funzionale per i viaggi. L'ombrello riflettente, perfetto per immagini nere e bianche, ha una dimensione di circa 180 cm e consente di acquisire foto con tonalità luminose e ad alto contrasto. Lo speciale diffusore lo trasforma direttamente in una variante softbox ombrello, ideale per la fotografia digitale di ritratto e natura morta. Viene fornito totale con porta-cari. E infine il numero 1 della nostra lista. Della AMAX, SMDV, Firifli Pro Beauty diffusore softbox per flash. È una scatola morbida professionale di alta qualità, fornita a una tariffa interessante. Offre una grande superficie luminosa, con una diagonale di 55 cm e una profondità di 20 cm. Ha un supporto comune per scarpe flash diverso da Sony e Minuta. La connessione è di 3-8 pollici e il filo è da 1-4. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.